Fiabe, miti e leggende di ogni paese hanno spesso avuto come soggetto storie di scarpe e di calzolai, cenerentola e le scarpette rosse in primis. Forse perché calzare scarpe è sempre stato un segno di ricchezza, di potere e di creatività. In tutte le società il mestiere del calzolaio era ritenuto umile, anche se la sua figura esercitava una grande attrattiva. La sua bottega era il luogo di incontri e di riflessioni sui significati della vita e della creazione, sul nulla e sulla bellezza. Entriamo nella bottega di Giuseppe Bertoldi, meglio conosciuto come il Bepi, lo storico calzolaio di Nago. L'ambiente non è molto grande, ma è accogliente e forse anche un po' bizzarro. Le scarpe, come è giusto che sia, sono ovunque, in un perfetto disordine ordinato, perché lui, il Bepi, sa esattamente dove deposita ogni calzatura. Ci sono diverse foto appese al muro e qualche articolo, una piccola lampada da lavoro, una grande macchina da finissaggio, la sedia su cui ogni giorno svolge la sua attività e soprattutto una sedia per gli amici. Perché lui, il calier de Nac, è il fedelissimo per eccellenza, ascolta i racconti della gente e del paese, segue i passi di chi lo conosce e quelle vicende diventano storie. Anche ogni scarpa ha a sua volta una vita e Bepi è in qualche modo il depositario delle storie della zona. Nel 2013, tre ragazze dell'Alto Garda hanno realizzato un cortometraggio proprio su di lui, Alten del Bepi, vincendo, peraltro, la seconda edizione del concorso History Lab, indetto dalla Fondazione Museo Storico del Trentino. La sua professione è forse, purtroppo, uno di quei lavori in via d'estinzione, che sembrano andare a cozzare con l'attuale modernismo. Nonostante qualche momento, assieme a Giuseppe, faccio invece pensare che figure come la sua siano assolutamente indispensabili in una comunità. Bepi svolge questo mestiere da 70 anni e sempre con lo stesso entusiasmo e la stessa passione. Vediamo il servizio. Quando e come hai iniziato a fare questo lavoro? Ho iniziato nel 1946, nel novembre. Arriva da Colò. Bravissimo. Dopo il mio collega da Arco è imparato a fare scarpe ortopediche e si è andava avanti fino adesso. Quindi sono quasi 70 anni. 70 anni. Se vai in novembre passi, 70 passi. E qual è stata la prima cosa che... No, 70, mette 140, perché di notte c'era i tedeschi prima. Stai lì fino alle 10 il negozio e dopo la mattina, le 1 di notte era il negozio. Ma anche adesso lei inizia prestissimo a lavorare. alle 4. Alle 4 la mattina. Finché non stavo malato. E dopo alle 4 io sempre. Qual è stata la prima cosa che hai imparato a fare? Scarpe nuove. Prima ho imparato a fare scarpe riparazione e dopo ho imparato scarpe ortopediche. Se la che conosce quello da Riva, quello della Fiat, veniva a studiare al museo a Riva e piangeva. era bambino, piangeva. E quello che ho fatto la scarpa... Nel corso del tempo hai cambiato il modo anche di gestire le scarpe? Una volta magari si aveva un solo paio, uno per la settimana, uno per la festa. Adesso ci sono tanti paio, per la festa, per la sera, per sempre. Adesso si tende anche a buttare via tanto? Non mi buttare via, perché le scarpe cinesi è quella. E quindi com'è cambiato il suo lavoro in questi anni? E' venuta una vecchia d'arco, scarpa nuova, stivaletti nuovi, ho spaccato la gomma. Ma nuove, appena comprati. E dopo ho toccato, ma le gomma cinese lì crea, si sbriga tutta. Quindi ha dovuto anche adattare il suo modo di lavorare e i materiali che usa, no? Queste nuove scarpe. I materiali bisogna recuperare la cola apposta per il materiale. E lei consiglierebbe a un giovane questo lavoro? Bisogna avere passione e lavorare. Fare sette ore non è abbastanza. Però qualcuno della sua famiglia ha preso questa direzione? Sì, mio nipote, bravissimo, super bravo. E dove lavora? Lavoro a Ciccina, ha fatto un negozio nuovo, ha un lavoro da pazzi. E il prezzo è un po' basso perché se no non si può, no? Perché fa un paio di sole, chiede 25 euro, le scarpe, tutta via le scarpe. La sua Nago in questi giorni le ha dato una bellissima dimostrazione d'affetto, perché qui nella chiesetta di Santa Trinità c'è una statuita dedicata a lei. Sì, sì, è vera. Io non l'ho vista ancora, no? Ma è venuto qua a farmi i complimenti, a farmi, sì, sì, è vera, è vera. No, mi vuole bene tutti. I suoi clienti arrivano anche da lontanissimo, non solo sono i nagesi. No, viene anche da Roveretto, da Bolzano, da Trento. Io ero qua da Trento, sì, quel che posso fare, faccio. Sono vecchio. No. Sì. Importante essere giovani nello spirito e lei lo è. Spirito è il go. Ma l'età è avanzata, 84 anni. Portati benissimo. Eh, ma, portati sì, ma si sente però. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.